Tu sei un pilota? Oh, sì, sono un pilota. La volta mi sembra di essere più a casa nel cielo che sulla terra. Un regalo inaspettato. Ho ufficialmente ereditato il ranch di Gus Anders. E un sogno nel cassetto. Vorrei una mia compagnia di voli charter. Wow. Ma qualcuno non è d'accordo. Non l'ha lasciato a te perché lo vendessi a un forestiero. Lavoreremo insieme per trovare il perfetto acquirente per questo posto. Per il ciclo Magic Night. Ci sto. Ritorno ad Aurora, un Natale speciale. Domenica in prima serata, sulla 5.